Il Consiglio Comunale Straordinario Il Consiglio Comunale Straordinario Noi abbiamo assunto due linee di indirizzo, l'una nella direzione targhe alterne e domeniche ecologiche, che sono provvedimenti che non hanno un fine strutturale. Poi ci sono dei provvedimenti che invece sono destinati a durare nel tempo, che sono dei provvedimenti volti a favorire il trasporto pubblico. Poi ci sono le linee di azione volte all'efficientamento energetico che va in una serie di direzioni. In primo luogo gli edifici pubblici, tanto in questo palazzo ma nelle 51 scuole di competenza comunale. E poi c'è la necessità di combattere le emissioni di calore che derivano dagli edifici privati. Anche chiaramente aprire un confronto ampio sul tema della qualità ambientale, che certo dipende da questi fattori ma dipende anche dal cambiamento di certe nostre abitudini di vita. Dobbiamo essere disposti a affrontare il cambiamento, non temerlo, perché ne vale la pena, in quanto in ballo c'è una qualità migliore dell'area e dunque un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Le domeniche ecologiche rappresentano un provvedimento che può essere condiviso, ma non basta ovviamente. Assolutamente sì, ho ricordato che ormai da più di 15 anni che questo provvedimento viene attuato da tutte le amministrazioni e che l'errore clamoroso è stato quello di sostituirlo con un provvedimento assolutamente non condiviso, quale è quello delle targhe alterne, inutile e dannoso. Il traffico che è solo una parte del problema e non è neanche la parte più rilevante. Voglio ricordare che i due terzi dell'inquinamento ambientale è determinato agli impianti di riscaldamento degli edifici. Allora attività amministrative tese alla sostituzione, alla rigenerazione del patrimonio di lì, a nostro punto di vista non possono che rappresentare la priorità ancora prima degli interventi sul traffico. Di qualità dell'aria a Pescara si parla mai da anni? Servono fatti concreti, c'è una politica inadempiente rispetto non a quello che diciamo noi ambientalisti ma a quello che dicono le leggi ormai da 20 anni. Però vorrei fare un appello ai cittadini per ribellarsi perché addirittura l'Istituto Superiore di Sanità ci dice che a Pescara e provincia ci sono dai 50 ai 100 morti l'anno per rinquinamento da polveri. E questo è un dato che dovrebbe far riflettere perché appunto ci sono persone che si ammalano di asma, di tumore e di malattie cardiocircolatorie a causa dell'inquinamento. Violazioni e criticità dalla gestione del percolato alle emissioni non controllate è quanto emerge dalla relazione dell'Arta sul polo tecnologico del CIRSU, il consorzio su cui pendono già diversi procedimenti tra cui la sentenza di fallimento. Dopo le indagini per fallimento del polo tecnologico del CIRSU, l'atto di sospensione dell'attività relativa al conferimento e trattamento dell'organico, per il consorzio di Grasciano emerge una seconda inchiesta, nello specifico la dettagliata relazione dell'Arta che ha evidenziato presunte violazioni e criticità dalla gestione del percolato alle emissioni non controllate. Operai che lavorano con scarsi ricambi d'aria e circondati da un enorme quantitativo di materiale da stoccare, prescrizioni non rispettate e percolato stagnante. Intanto sei comuni consorziati al CIRSU hanno fatto ricorso in appello contro la sentenza di fallimento sullo sfondo il blocco della regione che ha di fatto ritirato l'autorizzazione a conferire l'umido negli impianti CIRSU, situazione che crea l'emergenza rifiuti nel Terramano. Qualora i comuni del territorio Terramano chiedessero l'intervento della TEM, l'aiuto della TEM, la TEM Ambiente è pronta e come agirà? La TEM ha una propria stazione di trasferenza e quindi siamo in grado con la dovuta organizzazione logistica di supportare i comuni nella parte di trasporto e trasferenza. La parte più complicata di questa vicenda è trovare delle volumetrie residue per lo smaltimento. TEM ha i suoi contratti, però si è mossa sul territorio per cercare informalmente delle volumetrie residue in modo da poter indirizzare eventualmente i comuni su alcuni contatti di impianti al nord. Qualcosa abbiamo trovato, quindi siamo a disposizione di eventuali amministrazioni che dovessero avere necessità, sia come supporto sia proprio con le nostre attrezzature. Ad oggi ci sono state richieste? Sì, ad oggi ci sono delle richieste e le stiamo valutando. Nonostante la chiusura del Cirsu e le difficoltà, Teramo Città sarebbe immune comunque da questa emergenza rifiuti, giusto? Perché? La Teramo Ambiente conferisce rifiuti organici in 3-4 impianti fuori regione, uno in Molise, gli altri in Emilia-Romagna. Quindi dal punto di vista del conferimento del materiale organico, il fermo del Cirsu non ci impatta. Aggiornato al 16 maggio prossimo il procedimento civile nel Tribunale di Lanciano, intentato da Terna Group contro proprietari di terreni, ambientalisti e attivisti del comitato anti-elettrodotto Villanova-Gissi, che si opponevano alla presa di possesso dei terreni. Oggi, davanti al giudice Cleonice Cordisco, sono partite le prime nove posizioni di persone citate in giudizio, tra cui l'attivista di Paglietta, Silvia Ferrante. Per alcune delle altre otto parti comparse oggi si profila un accordo di transazione bonaria. Complessivamente, Terna ha citato in giudizio 50 persone, in maggioranza proprietari di terreni. E poi la cronaca, 2,2 kg di cocaina nascosti in una intercapedine ricavata sotto i sedili posteriori dell'auto, valore di 500 mila euro. Il recupero dello stupefacente è avvenuto sabato sera nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio, eseguito dalle pattuglie dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti. In Manette è finito un corriere di 68 anni, Felice Arrigoni, di Abbiategrasso, in provincia di Milano. La droga era in un sottofondo, sotto i sedili posteriori dell'auto, divisa in due panetti di cocaina di elevata purezza. Una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato guadagni pari appunto a mezzo milione di euro. Arrestato con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, Arrigoni è stato associato alla casa circondariale di Chieti. E ora ci spostiamo all'Aquila. L'abuso di alcol, l'aumento dell'assunzione di cannabis, diminuzione dei suicidi e l'analisi dei dati svolta dalla ASL Aquilana nei due successivi anni rispetto al sisma del 2009. All'Aquila nei due anni successivi al sisma del 6 aprile 2009 si sono verificati meno suicidi e più nascite e si è registrato un abuso di alcol con particolare riferimento alle donne che hanno aumentato l'uso nel doppio rispetto agli uomini. Ci sarebbe stata rispetto al periodo precedente al terremoto una impennata nell'uso di cannabis e tabacco tra i giovani. La foto della situazione emerge da una lunga e complessa ricerca condotta nel bienio successivo al sisma dal servizio psichiaria dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila diretto da Alessandro Rossi. Quelli relativi a nascite e suicidi, uso di droghe leggere e alcol non sono gli unici dati interessanti emersi. Ci sarebbero stati infatti miglioramenti nell'immediato delle funzioni motorie dei malati di Parkinson, forse generate da una fuga da situazioni pericolose e anche le persone affette da disturbi psichici sarebbero state meno colpite perché l'emergenza post-sisma ha fatto venire meno la loro condizione di diversi sul piano sociale. E diverse sono anche le spiegazioni. L'aumento delle nascite, per esempio, si spiegherebbe parzialmente con quello che gli autori dello studio chiamano capitale sociale. In parole semplici, un fenomeno di solidarietà collettiva, tutti aiutano tutti, innescato dal terremoto. L'atto della procreazione in questo contesto avrebbe inoltre avuto la valenza di un'autoguarigione dopo un'esperienza devastante. E' anche verosimile un cambiamento delle priorità e dei valori di fronte ad un evento che ha messo in serio pericolo la vita. Il numero dei suicidi nei due anni successivi al sisma è stato inferiore rispetto al periodo antecedente dell'evento dell'Urico. Non è del resto la prima volta, osservano gli studiosi, che ciò si verifica durante gli eventi catastrofici e guerre. Anche la riduzione dei suicidi potrebbe in parte spiegarsi col descritto fenomeno della solidarietà reciproca di massa che si mette in moto dopo eventi devastanti. Il disturbo post-traumatico da stress ha avuto le maggiori ripercussioni sulla popolazione considerata impropriamente normale, oltre il 37%, rispetto a quella che aveva già problemi psichici. La ragione? I soggetti con malattie psichiche sarebbero stati più protetti dal sistema di cure in atto e probabilmente da un venir meno in una situazione di emergenza della loro condizione di emarginati e diversi sul piano sociale. Più vulnerabili le persone con oltre 50 anni, tendenzialmente più il gentil sesso. Nelle donne adulte si è registrato un abuso di alcol in misura doppia rispetto alla popolazione maschile. Per quanto riguarda i giovani, in un campione di 1.078 soggetti di età tra i 16 e i 30 anni, di cui il 40% già con sonferenza mentale, è stato rilevato un abuso di alcol, cannabis e tabacco. Attività di controllo, prevenzione, repressioni illeciti. L'azione è svolta nel 2015 dalla Polizia Provinciale di Teramo a numeri rilevanti. Il 2016 si apre con l'adozione di applicazioni digitali che consentiranno dei controlli a distanza. Anche per il 2016 si conferma l'impegno di TIM per la provincia e quindi per la sicurezza. Sì, assolutamente sì. TIM rimane un grande partner nell'ambito della macchina della pubblica amministrazione. Quindi si conferma un forte impegno con la digitalizzazione del Paese e con l'introduzione di soluzioni innovative come quella che presenteremo oggi. Per quanto riguarda la tecnologia dei mezzi? Sì, forniremo due piattaforme, una destinata alla sicurezza urbana, quindi la piattaforma street control e l'altra la geolocalizzazione dei mezzi. Quindi forniremo alla provincia un'infrastruttura in grado di controllare e gestire il territorio di riferimento. Quali sono i dati relativi all'anno 2015? I dati relativi al 2015 sono abbastanza confortanti. Abbiamo effettuato quasi 2500 controlli sui veicoli rilevando quasi 720-730 infrazioni. Ovviamente con l'introduzione di questa tecnologia abbiamo la possibilità di implementare l'attività di vigilanza e di controllo del territorio accertando eventualmente la presenza di veicoli che circolano senza la copertura assicurativa, senza la revisione oppure oggetto di furto. Per noi questa strumentazione è importante anche a livello di tutela ambientale perché con lo stesso strumento siamo capaci di individuare tutti i veicoli che effettuano i trasporti di rifiuti e ovviamente anche tutti gli altri veicoli. Torniamo a parlare del progetto della grande Pescara, argomento trattato oggi anche dal presidente della regione Luciano D'Alfonso a quasi due anni proprio dal referendum svoltosi a Pescara che ha tenuto la maggioranza dei sì. D'Alfonso spiega i motivi del lungo iter burocratico che ancora oggi non ha dato luogo alla fusione dei tre comuni interessati. Si torna a parlare della grande Pescara, della fusione di Spoltone, Montesilvano e Pescara in un solo comune quello che secondo il referendum del maggio 2014 aveva visto i cittadini favorevoli con il 64% delle preferenze. Dopo 507 giorni da allora ancora nulla di fatto, tanti erano stati gli schieramenti politici a chiedere il rispetto della volontà popolare e la regione Abruzzo aveva dato come termine di scadenza il 31 gennaio, data entro la quale il presidente D'Alfonso avrebbe reso noti gli sviluppi dell'iter in corso. Siamo pronti per generare questa gravidanza plurale tra consiglieri, commissione e consiglio regionale poiché il lavoro che stiamo facendo sulla nuova Pescara non è un lavoro di narcisismo estetico è un lavoro di rifondamento, di rinascimento di un'area urbana che ha bisogno di una declinazione istituzionale. Io ho apprezzato lo sforzo che ha fatto il consigliere mercante, ho apprezzato lo sforzo anche dei cittadini che sono intervenuti al voto referendario, adesso però dobbiamo tenere conto della complessità, dei tempi, della gradualità e del punto di arrivo. Io come ho precisato distingo l'opinione della mia persona fisica dall'opinione della mia persona giuridica. Come persona giuridica, cioè l'ordinamento della regione noi daremo luogo e corpo alla coerenza del messaggio referendario. Quali sono i nodi di questo passaggio? Ma intanto come si determina l'allineamento delle contabilità, delle strutture dei corpi amministrativi e fare in modo che alla fine non nasca l'irredentismo localista. Ci sono degli anticorpi e ci sono delle misure di salvaguardia che mi fanno stare tranquillo. Il presidente della provincia di Teramo di Sabatino interviene sulla riorganizzazione della sanità del territorio. Le eccellenze presenti a Teramo potrebbero essere penalizzate, dichiara Di Sabatino e annuncia la convocazione di una assemblea dei sindaci. Le eccellenze sanitarie presenti a Teramo potrebbero essere penalizzate da una riorganizzazione fatta sui numeri. Interviene così il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, sulla riorganizzazione amministrativa della sanità e sulla eventuale ASL unica. Io penso che quello che avevo indicato all'inizio, cioè che la riorganizzazione amministrativa, ASL unica e così via, era strettamente connessa anche alla riorganizzazione sanitaria. Da questo punto di vista nelle sedi competenti ho più volte fatto presente che l'Abruzzo è un tavolo a quattro gambe, una gamba importante è quella di Teramo, di questo si deve tener conto. Non è un discorso campanilistico, è un discorso di mantenimento delle eccellenze che noi abbiamo su questo territorio ed è anche un ragionamento da fare insieme a tutti i sindaci sulla sanità che verrà. Quattro ospedali per acuti in questo territorio di 300 mila abitanti ormai non è più sostenibile. Non abbiamo sanità privata, però io credo che dovremmo fare un ragionamento serio sia sul nuovo ospedale da realizzare e da costruire e sia sul mantenimento delle eccellenze a Teramo, quelle eccellenze che oggi potrebbero essere penalizzate da una riorganizzazione fatta su numeri. Su questo la discussione è in piedi, io non escludo di convocare un'assemblea di sindaci. Fondi regionali destinati al caregiver, un servizio fondamentale per tutte le persone affette da patologie rare che necessitano di assistenza 24 ore su 24. A darne notizia quest'oggi sono stati l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci e l'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Scrocco, nonché Andrea Sciarretta, presidente dell'associazione Progetto Noemi. Vediamo. Fondi regionali per il caregiver, un servizio il quale la regione Abruzzo sta lavorando da tempo per poter offrire sostegno a quelle famiglie che devono assistere un familiare affetto da patologie rare e che necessita di assistenza 24 ore su 24. A farsi promotore dell'iniziativa Andrea Sciarretta, il papà della piccola Noemi, affetta da SMA 1. Gli obiettivi di oggi sono lo sblocco immediato dei fondi del caregiver inerente al 2015 in quanto ancora sono erogati e in più di inserire nel bilancio 2016 comunque un capitolo di spesa che vada per il bando 2016. Noi ce la mettiamo tutta per dare un contributo concreto anche a una legge regionale per il caregiver in quanto noi siamo io personalmente un caregiver familiare e in più rappresentiamo notevoli numeri di caregiver familiari. Quindi ci auguriamo che con la regione possiamo anche andare oltre e dare la giusta attenzione e concretezza alle famiglie che assistono ai disabili gravissimi. Fondi regionali messi a disposizione per formare personale specializzato. Si tratta infatti di patologie spesso poco conosciute e che necessitano di competenze specifiche e fondi anche per la struttura che dovrà ospitare i pazienti in fase cronica. Avevamo già in qualche modo impegnato la regione Abruzzi in un precedente confronto che all'atto e al momento della predisposizione del PEG come è avvenuto nel 29 di gennaio ci sarebbe poi stato un ulteriore ragionamento tra il sociale e la sanità. Abbiamo approvato il documento base, abbiamo 30 giorni per fare le variazioni che sono state già in qualche modo ragionate e sulle quali già si è avviato un confronto nel recente passato. Si parla di formazione di personale specializzato? Beh anche questo perché dicevamo aumentare sia la quantità dell'assistenza ma in questo caso anche la qualità dell'assistenza e la qualità chiaramente passa anche per la formazione del professionale e del personale. Abbiamo messo un 200 mila euro facendo un avviso e ne abbiamo aggiudicate 100 appunto riuscendo a dare una risposta a tutte le famiglie che avevano le caratteristiche dell'avviso. Quest'anno faremo la stessa cosa, nel regolamento metteremo la possibilità di dare un contributo proprio alle famiglie di minori con malattie rare. La regione Abruzzo questa mattina ha presentato il rendiconto di un anno di attività svolta presso il centro agroalimentare nella valle del Pescara. Tra le difficoltà ci sono i danni alla struttura, la forte situazione debitoria, una gestione che il governatore ha definito dissennata e dannosa. Una struttura fatiscente, danni alle attrezzature, una situazione debitoria ingente, tasse non pagate dal 2007, l'elenco prosegue. È reso conto di un anno di lavoro del centro agroalimentare la valle della Pescara con un quadro che parte dallo Stato in quale versava nel momento in cui la giunta ad Alfonso ha iniziato l'attività di recupero. Siamo passati da un monte debitorio di 8 milioni a uno di 7 milioni in solo un anno di attività del nuovo Consiglio di Amministrazione. Per quello voglio ringraziare il Presidente Aielli e i consiglieri Felizia Montanini che si sono dedicati alla gestione di quell'ente in maniera assolutamente professionale. Adesso dobbiamo sviluppare una serie di attività strategiche per la valle della Pescara, quindi grande rapporto con la GDO, con la grande distribuzione organizzata, con le organizzazioni dei produttori della nostra regione per dare un servizio importante a tutto il settore ortofrutta. Quella piattaforma così complessa ma così attrezzata, così nuova, così strategica dal punto di vista della viabilità può essere utilizzata non solo dalle filiere abruzzese ma io penso del centro Italia. Si è parlato anche del riaccorpamento del personale, si è parlato anche di quella che sarà la nuova chiave ovviamente, la nuova organizzazione della struttura, la trasparenza che si è utilizzata anche nei contratti. Si è passata da una grande confusione gestionale e amministrativa a una gestione corretta, dedicata, puntuale, efficiente ed efficace. Per questo ringrazio tutti e tre i componenti del Consiglio di Amministrazione. Adesso ci attende una stagione strategica che è quella di sviluppare ulteriormente le attività del centro. Abruzzesi nel mondo che rendono la propria terra orgogliosa dei propri cittadini, capaci di affermarsi in realtà di grande spicco e spesso lontano dalla terra natia. A Pescara oggi l'assessore regionale Donato Di Matteo ha premiato Luciano Bentenuto, direttore generale dell'intelligence canadese, tornato in Italia per porgere l'ultimo saluto alla mamma rimasta a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Abruzzesi nel mondo e l'orgoglio di poter rendere il loro omaggio. A Pescara, la regione Abruzzo, rappresentata da Donato Di Matteo, ha voluto insegnere di un riconoscimento, un uomo divenuto capo dell'intelligence canadese. Si tratta di Luciano Bentenuto, originario di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Trasferito sia adotta o a molti anni fa con l'obiettivo di portare la sua italianità e ancora di più il suo Abruzzo, oltre i confini europei fino a diventare una figura di grande rilievo. Io ringrazio la regione per aver fatto quello, però credo il senso è piuttosto perché io mi sono impiegato all'estere per cambiare un po' l'immagine dell'italiano che abbiamo, l'italiano, scusa l'espressione, spaghetti mafia, allora si deve togliere quell'immagine e io mi sono dato come una missione personale di contribuire a cambiare quello, perché io ho fatto 30 anni nel mestiere della polizia locale, federale e ho sempre avuto un po' di discriminazione fatta contro me, perché è un poliziotto italiano, ma può essere che lui è deritto, sì, sì, il 99% dei geni italiani non hanno problemi. L'Abruzzo che ci rappresenta al meglio, così l'ha definito l'assessore regionale di Matteo, orgoglioso di potersi fare portavoce della sua regione. Sottolineando come spesso l'Abruzzo dimentichi le sue spiccate qualità e i grandi traguardi che i suoi cittadini hanno raggiunto e sanno raggiungere, per meriti lavorativi e non, anche fuori dai confini geografici. Io credo che sono queste figure che nel panorama degli abruzzesi nel mondo appresentano il nostro orgoglio per questo Abruzzo distribuito in tutto il mondo. A queste figure noi dobbiamo guardare con grande interesse e quando costruiamo le riconoscenze per i nostri ambasciatori nel mondo, dobbiamo prendere dalle alte qualità che ci sono nel nostro Abruzzo distribuito nel mondo, nei vari stati. Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva caratterizzata tra le altre cose dal calcio mercato che sta vivendo le ultime ore alle ore 23. Infatti ci sarà lo stop per la sessione invernale. Tante le trattative di cui vi parleremo in maniera ancora più diffusa questa sera nel corso della trasmissione Replay che andrà in onda alle ore 21 e che si protrarrà almeno fino al gong delle ore 23 del calcio mercato. Chiaramente grande attenzione sui movimenti di mercato del Pescara ma daremo uno sguardo anche a quanto accaduto alle altre realtà abruzzesi. Per quanto riguarda il Pescara, giornata lunga per gli operatori di mercato biancazzurri, in particolare per il presidente Sebastiani, il DS Pavoni, il DG Repetto che sono stati a Milano. Tra le operazioni c'era da ratificare la cessione di Riccardo Fiammozzi al Genoa e l'ufficialità è arrivata questa mattina. Sul fronte delle uscite anche Mattia Valoti a proda al Livorno, via Verona, la società che detiene il cartellino del fantasista che è stata una vera e propria delusione nella prima parte di stagione del Pescara. I movimenti in entrata, anche con l'ausilio delle immagini. Cristian Pasquato torna in riva all'Adriatico. Eccolo qui Pasquato che lo scorso anno ha giocato appunto a Pescara, poi è andato via tramite la Juventus, società che tuttora detiene il cartellino di Pasquato, era stato girato in prestito al Livorno. Ha iniziato bene la stagione, poi è andato in Calando. Lui come anche le prestazioni del Livorno, Pasquato che ha spinto anche un po' lui per poter tornare a Pescara. È stato accontentato proprio nell'ultimo giorno di calcio mercato, dunque in prestito dalla Juventus. Pasquato torna al Pescara. Qui vediamo uno dei suoi gol più belli lo scorso anno segnato a Trapari. Proprio un anno fa fu la prima giornata di ritorno dello scorso campionato. Un altro ritorno in biancazzurra è quello di Antonio Mazzotta, terzino sinistro che arriva dal Cesena con la formula del prestito con diritto di riscatto. Mazzotta aveva giocato la prima parte della stagione 2010-2011 in Serie B. L'anno in Serie B con Eusebio Di Francesco aveva trovato poco spazio, era un giocatore anche più acerbo. Poi si era trasferito al Crotone dove ha giocato delle buone stagioni. Quest'anno ha trovato poco spazio a Cesena anche per via di qualche acciacco fisico. Proprio Mazzotta va a colmare la falla che si era aperta tramite la cessione di Fiamozzi. Poi arriva anche il difensore centrale tanto richiesto da Massimo Otto e si tratta di Andrea Coda. Anche questo trasferimento è ufficiale. Arriva dalla Sampdoria. Anche per lui si parla di prestito con diritto di riscatto. Va dunque a completarsi il pacchetto dei difensori centrali del Pescara, proprio con l'innesto di Andrea Coda. Per quanto riguarda gli attaccanti, la Padula e Caprari, due gemelli del gol che stanno trascinando il Pescara nelle alte sfere della classifica. Resteranno chiaramente il rival adriatico fino a fine stagione, ma su di loro la Juventus ha una opzione. Sono stati entrambi bloccati dalla Juventus che dunque tornerà poi a parlare. Si metterà a tavolino con i dirigenti del Pescara dal prossimo mese di giugno per valutare il da farsi. Ma su di loro c'è una opzione proprio della Juventus. Resteranno però entrambi fino a fine stagione a Pescara. Altre notizie del giorno. In riferimento alla trasferta di sabato prossimo a Salerno allo stadio Arecchi. La trasferta è stata vietata ai tifosi biancazzurri. Dunque Pescara a Salerno senza il sostegno dei propri tifosi. E dal campo altre notizie. In particolare Ugo Campagnaro che dovrà stare fermo per due settimane. Per lui gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare del flessore della coscia sinistra. Quindi l'arrivo di coda in extremis risulta ancora più importante anche alla luce di questo piccolo stop del forte difensore argentino. Lavoro differenziato per Crescenzi e Memushai. Tutti gli altri giocatori a disposizione tra questi anche Daniele Verde che ha debuttato in biancazzurro nella gara vinta con il Bari sabato scorso. Non vedevo l'ora di entrare in questo campo stupendo tra l'altro. Ma innanzitutto i tifosi sono stati loro a vincere. Perché un pubblico così non me l'aspettavo. Vittoria importante. Hai portato anche fortuna perché sei entrato in campo. C'è stato qualche minuto di assestamento. Come si suol dire? Poi sono arrivati questi due gol che hanno chiuso la partita. Ma contro una squadra così sicuramente devi stare dietro e aspettare il momento buono per ripartire perché in Bari si sa è una grande squadra e la classifica parla. La vittoria importante. Serie A ha 5 punti. Con questa squadra, con questo pubblico il Pescara può legittimamente sognare. Ma senza Scaramanzia sì. Però noi guardiamo partita dopo partita. Il campo parla. Noi ce la metteremo tutta. Sai quando combatti con 22 giocatori, 23, più mista e lo staff non puoi mai perdere. Sette vittorie consecutive. Ora c'è la possibilità di superare questo record. Sabato c'è una partita difficile a Salerno. Però questo Pescara può farcela. Ma sicuramente. Noi andremo lì, come siamo scesi in campo oggi, a battere tutti. E ora la Virtus Lanciano. C'è fermento per il calciomercato per queste ultime ore di mercato, ma anche per la situazione sulla panchina rossonera dopo l'esonero del tecnico Roberto D'Aversa. Oggi le nostre telecamere erano al memmo di Lanciano per la ripresa degli allenamenti, allenamenti diretti dal tecnico della primavera, primo Maragliulo, che è una scelta al momento provvisoria, ma potrebbe anche diventare definitiva. Questo lo scopriremo nelle prossime ore. Maragliulo era affiancato dal suo staff della primavera. Questo perché non solo D'Aversa, ma anche lo staff che lavorava insieme con D'Aversa è stato sollevato dall'incarico. Quindi vediamo le prime immagini e il servizio relativo alla ripresa degli allenamenti della Virtus. Primo Maragliulo oggi ha diretto il primo allenamento rossonero dopo l'era Roberto D'Aversa. Non ci sono più Morellini, Bartali e Andrea Tarozzi. Invece il nuovo staff, quello di Primo Maragliulo, è completamente in house, ovvero Tommaso di Biccari, il vice allenatore, Umberto Cianfroni, il preparatore atletico e Pierpaolo Labarba, preparatore dei portieri, provengono dalla primavera rossonera. Sul fronte calciomercato è arrivato Rocca dalla Sampdoria. Ci si aspettano anche altre novità interessanti e importanti prima del termine del calciomercato di questa sera e novità importanti anche sul fronte partenze. Si vocifera che qualche altro elemento potrebbe lasciare la Virtus. Sul fronte allenatore sono quasi totalmente da escludere le piste che porterebbero a Sandro Calori e a Carmine Gautieri. In quest'ultimo caso si tratterebbe di un ritorno, ritorno che ad Zoras appare improbabile. Parlava Alessio Giancrissoforo di movimenti di mercato. Oggi si è allenato Michele Rocca, centrocampista classe 96 che è arrivato in prestito dalla Sampdoria, ma nel pomeriggio sono stati formalizzati altri movimenti. Uno è l'arrivo, anche in questo caso in prestito, di Francesco Bergamini, centrocampista che arriva dal Bologna. Poi un movimento minore è l'arrivo dell'attaccante classe 99 Luciano Palladino che arriva a titolo definitivo dalla Scafatese. Poi si parla, per questo insomma c'è tempo fino alla fine del mercato, si parla anche di un possibile ritorno del difensore Stefano Ferrario che quest'anno è un difensore del Catania ma nelle ultime due stagioni ha indossato la divisa rossonera. Però i movimenti al momento ufficializzati sono gli innesti in prestito di Rocca e di Bergamini a titolo definitivo del giovanissimo attaccante Luciano Palladino, classe 99. E ora scendiamo in Lega Pro e parliamo dell'Aquila che ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal crotone del difensore Luca Bruno ma la giornata di oggi è stata contraddistinta dalla pubblicazione della sentenza di primo grado del processo sportivo Dirti Soccer. Ebbene per l'Aquila il verdetto è di meno 13. Questa è la penalizzazione sancita dal Tribunale federale nazionale. Per l'ex dirigente Ercole di Nicola una inibizione di cinque anni in continuazione con quella che aveva già ottenuto Ercole di Nicola per il processo sull'inchiesta sportiva di Savona Teramo. Ma per ulteriori dettagli andiamo a seguire questo servizio. Il Tribunale federale nazionale ha inflitto 13 punti di penalizzazione all'Aquila Calcio con l'erogazione di una pesante ammenda da 150 mila euro. E' questo il verdetto del primo grado del processo sportivo Dirti Soccer. Più che dimezzata l'entità della penalizzazione rispetto alla richiesta della procura federale di meno 31, il sodalizio rosso-blu paga per le condotte che sono state addebitate all'ex responsabile dell'area tecnica Ercole di Nicola. In particolare vengono attribuiti tre punti per ciascuna delle responsabilità oggettive aggravate associate a quattro partite per le quali è stato riscontrato l'illecito Sant'Arcangelo l'Aquila, l'Aquila Savona, l'Aquila Tutto Cuoio e l'Aquila Sant'Arcangelo. Un punto per ogni responsabilità oggettiva attenuata che sia stata associata a tre partite nelle quali non compare l'Aquila. Grosseto Sant'Arcangelo, Cremonese Propatria e Barletta Catanzaro. Tutte le responsabilità presunte sono state assorbite dalle oggettive. Facendo la somma sono 15 punti di penalizzazione ridotti a 13 in applicazione dei poteri previsti dal codice di giustizia sportiva. Articolo 19. Allo stesso Ercole di Nicola sono stati inflitti cinque anni di inibizione da scontare in continuità con i cinque anni già inflitti per l'illecito della partita tra Savona e Teramo più 100 mila euro di ammenda per le condotte illecite riferite alle suddette partite. Tra gli altri verdetti imputabili al medesimo processo sportivo, in particolare quelli inerenti le squadre del girone B di Lega Pro, ci sono sei punti di penalizzazione inflitti al Sant'Arcangelo e altri due al già dilagnato Savona. 3 mila euro di ammenda alla maceratese. Tra i tesserati cinque anni e preclusione più altri nove mesi per il massaggiatore del Sant'Arcangelo Daniele Ciardi, quattro anni e due mesi per l'ex DS di Chieti e Pescara Enzo Lucifora, quattro anni per l'ex tecnico del Savona Arturo Di Napoli, tre anni all'ex difensore di L'Aquila e Giranova Mirko Garaffoni, otto mesi all'ex giocatore del Sant'Arcangelo Giacomo Ridolfi, sei mesi a Gianni Califano, tre mesi all'ex tecnico del Savona Nini Corda, anche in questo caso applicando l'articolo 24 del codice di giustizia sportiva per chi collabora alle indagini. Tra le società prosciolte, il Livorno di Serie B, Prato e Tutto Cuoio in Lega Pro. Tra i tesserati prosciolti, i calciatori del Sant'Arcangelo Guidone o ben che Traorè e del Tutto Cuoio Baldè. Inutile dire che per tutti questi verdetti è possibile fare ricorso sia da parte di che è stato sanzionato, sia da parte della Procura Federale. In attesa dunque della sentenza della Corte Federale d'Appello, che potrebbe modificare inibizioni e penalizzazioni, al momento la classifica dice che l'Aquila scende al terz'ultimo posto con 14 punti, il Sant'Arcangelo al quart'ultimo posto con 17 punti, resta ultimo il Savona con 9 punti. E ora parliamo di Teramo, intanto con un movimento in uscita ufficiale, ovvero la cessione a titolo definitivo del difensore centrale Enrico Altobello alla Lucchese. Altobello era stato inserito nella lista dei partenti dalla società e il movimento si è completato, è stato formalizzato nelle ultime ore. Dunque Altobello a titolo definitivo alla Lucchese. In mattinata c'è stato un nuovo tentativo del Teramo per il trequartista Luca Scapuzzi del Como, ma non c'è stato nulla da fare, nulla da fare neanche per l'attaccante Stefano Beltrame di proprietà della Juventus. Ha giocato molto poco la prima parte di stagione nella Provercelli in Serie B. Beltrame proseguirà la sua stagione sempre in prestito e sempre via Juventus al Pordenone in Lega Pro. Ieri intanto è finita in parità la gara con il Sant'Arcangelo, uno a uno, sconfitta evitata nel finale grazie ad un guizzo di Petrella. Il Teramo incespica sul Sant'Arcangelo, anzi ad onore del vero senza lo spunto di Mirco Petrella a nove dal novantesimo i biancorossi starebbero ancora a leccarsi le ferite, perché i romagnoli sono temibili e lo si sapeva, ma la serenità offensiva del diavolo continua a palesarsi in maniera abbastanza preoccupante. E così la coppia forte Petrella schierata dal primo minuto non punge, così come fanno gli ospiti in bio, salvati dalla chiusura tempestiva di Perrotta. Forte al tredicesimo scalda i guantoni da piazzato di un attento Nardi bravo a dire di no alla botta sul palo di competenza. La squadra di Zauli è viva, Venitucci al ventunesimo sfiora in ripartenza il palo di Tonti, dall'altra parte il terocross sbilenco di Alessandro Di Paolo Antonio non crea grattacapi ai gialloblu. Ma è sul finire di tempo che la partita prende una piega sfavorevole ai biancorossi. Del giro di un minuto Forte sciupa clamorosamente il servizio al bacio di Petrella facendosi chiudere Danardi. Nemmeno un minuto e Margiotta vince l'uno contro uno con Caidi e fulmina col diagonale l'estremo difensore di casa per la rete del vantaggio dell'undici di Lamberto Zauli. Rientrato dagli spogliatoi il Teramo prova ad aprirsi un varco nella retroguardia romagnola. Petrella non inquarra lo specchio della porta ma senza l'angolo giusto per provare a far male. Allora i biancorossi ci provano dalla distanza. Cenciarelli dal limite fuori, Cruciani invece la porta la prende ma in maniera fiacca. Vivarini inserisce Moreo prima e Cecchini poi con quest'ultimo che ad un quarto d'ora dal termine dà solo l'impressione del gol ai suoi pallone al lato di pochissimo. Ma è solo il preludio del gol che arriva al minuto 82. Petrella spostato sulla fascia destra rientra sul mancino. La sua conclusione deviata da Rossi diventa imprendibile per Narvi ed è il gol che vale la parità definitiva perché nonostante il Teramo ci provi fino alla fine per l'assalto conclusivo altri gol non arriveranno. Le due squadre continuano dunque a viaggiare a braccetto ma è chiaro che classifica la mano il punto è solo un brodino per entrambe le formazioni. Finisce qui il TG6, la seconda edizione. Vi lascio al TG6 l'Aquila delle 19.45 e vi ricordo l'appuntamento con replay alle ore 21, la trasmissione di Enrico Rocchi focalizzata sul Pescara ma in particolare sulle ultimissime ore, le ultime due ore della sessione invernale del calcio mercato. Grazie per l'attenzione. Buona serata. Grazie per l'attenzione.